La mia riflessione oggi è concentrata su statistiche italiano, se qualsiasi persona, qualsiasi tifoso che confronti i numeri delle sfide tra italiano e Sarri si spaventerebbe, basta pensare al 7 a 0, 7 gol a 0 al Franchi nelle ultime due partite a favore del tecnico della Lazio, basta pensare a nessuna vittoria nelle ultime 5 gare, sempre contro la Lazio, le statistiche sono impietose, ma ho sempre pensato che le statistiche siano fatte per essere mentite e questa è una grande occasione. Spero che sia vera l'administrazione del collega e amico Magrini che è un passaggio al centro campo a tre, che troverei una scelta assolutamente saggia ed equilibrata, mi condividerei totalmente anche la scelta di un attacco rapido, ma soprattutto mi aspetta italiano, questa è veramente una partita, una sfida tra due allenatori, allora caro italiano torna a dimostrare quello che sei, un tecnico emergente, nuovo, magari perché no, il nuovo Sarri, in modo che la Fiorentina non abbia bisogno di andare a cercare altrove quello che ha in casa.